Nella confusione che spesso capita in Italia, quando si parla di dati relativi alle nuove tecnologie, state attenti quando leggete i dati sulla diffusione degli ebook e soprattutto sui fatturati che sono prodotti dalla vendita degli ebook in Italia, perché si confondono dando questi dati, i dati relativi alla vendita reale del file ebook con i dati relativi alla vendita degli apparecchi per la lettura degli ebook, quindi si sparano delle cifre di milionate di Euro, quando in realtà in queste cifre di milionate di Euro il 70% di quella che è la cifra sparata è semplicemente collegata al prodotto derivato dalla vendita degli apparecchi per la lettura degli ebook. L'Italia è un paese molto confuso, troppo spesso confuso, ci sarebbe bisogno di maggiore serietà al potere, chissà se arriverà con queste elezioni.